Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Allora, ho deciso di fare questo video acquisti shopping insieme perché sono andata a comprare due marche diverse, però non c'ho voglia di fare due video separati perché alla fine ho detto che sono più belli insieme perché comunque io li utilizzo molto come marche. E parliamo di uno che è Coin, la marca ovviamente non è Coin ma si chiama Sabon, un po' dopo non avevo il sacchetto di Sabon perché mi hanno dato quello di Coin, la marca però, scusate, il cane è questa qua, vediamo se riesco a farla vedere, no, non riesco a farla vedere perché è troppo piccolina e questa qua la marca si chiama Sabon, avevo una volta il sacchetto era anche molto bello comunque, marca Sabon con Yves Rocher che ha aperto tra l'altro se vi può interessare, non mi sponsorizzano ma glielo dico lo stesso, ha aperto un negozio gigantesco in via Garibaldi, è veramente grandissimo e poi rimane sempre lo stesso negozietto che c'è da un po' di tempo però comunque io ci vado spesso. Decetto come c'era delle gru, in questo caso sono andata alle gru, quindi c'è sia Coin che dentro Coin c'è la parte di Sabon, la riconoscevo che ha praticamente un lavandino bellissimo, se siete di Torino o vi capita di venire a Torino andate a centro con c'era delle gru, c'è di tutto, quindi adesso io separerò la roba di Sabon che è una marca che mi ha fatto scusare mia sorella perché mia sorella è proprio in fissa con questa marca perché diciamo che glielo ho regalata per, l'avevo provata più volte Lely e l'ho regalata poi per il compleanno Natale, infatti è piena adesso, è molto contenta. Questa volta ho visto una cosa che io sono impazzita, adesso vi farò vedere. Allora parto prima dai Vestorschen perché avevo una cartolina che mi era data a casa, infatti io non compro molto dalle presentatrici non perché capisco il loro lavoro, l'ho fatto prima di loro e tuttora sono ancora attiva però non lo faccio perché appunto c'è un negozio gigantesco a Torino e un altro più piccolino ma c'è alle gru e quindi non è proprio un business che va molto, penso che i negozi siano molto molto meglio. Aspettate ho dimenticato solo una cosa, il regalo. Ok, possiamo partire. Allora, mi è nata questa cartolina dove mi dicevano di recarmi appunto da Vestorschen, avrei avuto il 40% sul primo acquisto e 50% sul secondo e che poi avrei avuto in regalo una cosa che adesso vi farò vedere. Allora io ho accostato appunto da Vestorschen, ho anche la tesserina che la tesserina oltre a essere così, dietro vi danno dei timbri e a fine dei timbri scoprirò che cosa avrò. Comunque ogni 5 euro di spese ci sono dei timbri. Mi dovevano dare un timbri in più perché se non sbaglio io ho speso 13 euro, 13,74 euro. Purtroppo non mi serviva nient'altro perché la crema ce l'avevo, il burro cacaua anche, il bagno di schiuma mi hanno regalato una cosa cosa così tra l'attesore d'oriente. Sì, avevo preso anche il bagno di schiuma però momentaneamente lì non mi serviva anche se magari potevo prenderlo, non per il punto perché lo volevo, però non spendiamo troppo. Allora, partiamo con il Vestorschen. Il Vestorschen ho comprato, l'avevo metto questo qua e lo sto usando perché come potete vedere ho dei problemi. Allora mangio bene tutto, quindi il problema non sta nell'alimentazione e più che altro a livello di stress e di pelle. Quindi ho deciso di prendere provvedimenti perché stavo già usando delle creme ma non funziona quindi ho detto proviamo, oltre alle creme, ad usare anche i gel detergenti purificanti. Questo qua è un gel appunto, c'è pure il suo dosatorino che qua quando ho tolto questo piripillo si può usare e mi laverò la faccia tutti i giorni con questo. Si può usare tutti i giorni e niente, ci si lavava nuovamente la faccia. Questo qua se non sbaglio l'ho pagato. Gel detergente purificante, ne ho due tipi, per quello devo andare a vedere quanto costa. Questo è quello più grosso. L'ho pagato, costava 14,95€, l'ho pagato sui 9€ perché era scontato un bel po'. Adesso non mi ricordo quanto. Comunque, era scontato, in matematica faccio un po' chifo. Però, comunque, mi hanno tolto 6€. Ecco, vedevano così, quindi costava comunque 15€. E sono andata quindi a pagarlo un po' di meno. E' questo qua. Poi ho preso invece questo qua, che è la versione piccolina che regalerò al mio ragazzo, perché abbiamo lo stesso problema, no vabbè, lui un po' di meno. E' della versione, praticamente, più piccola di questo. Che, infatti, questo qua viene, che alla fine conviene più l'altro, secondo me. Però, visto che è tanto lui, voglio farglielo provare, costa 7,95€. Mi hanno fatto lo sconto di 3,18€, quindi costa sui 4€. Contando che, comunque, fate, prima di un calcolo, questo costa 9, questo costa 4, ma alla fine... Poi c'è anche il dosatore. Però questo qua, tipo, se volete andare in viaggio, queste cose qua, vi conviene. Di solito vi prendevo questo formato qua. Però adesso ho visto che ci sono i formati QT e non sono scontati e tutto mi sono trovata meglio. Allora, diciamo che ho fatto un po' la cazzata, la cavolata, di comprarli uguali. E non ci ho fatto caso. Pensavo che questa fosse la... Non dico la maschera, ma il gommage. E ho sbagliato. Però ho detto, vabbè, lo regalami al mio ragazzo perché non puoi tornare indietro a cambiarlo, perché, essendo che c'erano i premi in mezzo e altre cose, penso che qua, tipo, impazzirebbe. Quindi, tanto faccio. Amore, lo regalo, lo sai già. Quindi, tanto è contento lui. E infatti mi ha regalato, mi ha mangiato poi di questa cosa qua che è un gommage. È un gommage scrub, quindi ce l'ho già. Non devo andare a cambiarlo perché ce l'ho già. E questa qua è una mascherina, invece, per il viso. Che, appunto, questi qua erano gli omaggi. Sempre un... Uno scrub. Gommage. E questa qua, invece, è una maschera per il viso. Maschera luminosa. Con espino amarillo. Beh, non si legge la gente. Comunque, queste cose qua. E poi c'è il regalino che è questo qua. Lo faccio vedere. Che è il latta, effettivamente. L'ho ancora aperto. Vediamo cosa così faccio. Sono un disastro, io. Adesso io riesco a fare anche gli ASMR. Questo lo userò come portapenne, potrebbero in mente, perché, essendo in latta, mi dispiace utilizzarlo per metterci, non so, il cotone. Non so cosa metterci. Deve essere un portability case, però io, cioè... Non ci vedo fare una cosa del genere. Quindi, penso che ci metterò... Lo userò come portapenne. Mi servono, perché sto usando le tazze. Vi serviva ed è molto, molto bello. Era messo in una carta e l'ho tolto per farlo vedere. E questi sono i miei acquisti che ho fatto. La prima cosa che andrò ad usare domani sarà assolutamente questo. Vi farò poi... Se riesco, lo so, lo dico ogni volta alla recensione di come mi sono tornata con questo qua. E anche con gommage, maschera, insomma, tutto il mio... La mia skin care. La mia face care. Non so per dirlo. Come mi troverò? Se riuscirò a migliorare i stili brufoli, perché non li sopporto più. Ma è un periodo, dipende, quando sono stressata. E in totale ho speso da Yves Rocher 13,74 euro. Contate che comunque ho un bel po' di roba all'ora scimolata. I campioncini che dopo non avevano, infatti mi hanno omaggiato gli gommage con la maschera. Grazie a Yves Rocher ti voglio bene. Quindi mettiamo via poi lo scontrino e la bustina che io me le tengo tutte le bustine. Sono sempre utili le buste. Passiamo a coin con Sabo. Adesso devo mettere solo in un angolino tutta la roba di Yves Rocher. Allora. Da coin che ho due scontrini. Ah, c'è anche un coupon interessante. Lo scopro adesso. Ah, vabbè. Comunque, non si sa mai. Allora, da coin ovvero la marca Sabone che è la parte di coin. Abbiamo preso io e mia sorella delle cose insieme che ovviamente non vedrete quelle di mia sorella perché non ci sono. Lei ha comprato una ma era tutto scontrato dal 30 al 50% quindi correte da Sabone. Lo trovate dentro coin o non so, penso che ci sia un negozio anche a parte. Nel centro cominciare delle gru lo trovate. allora Christmas sono le Christmas kit c'è il Christmas kit che veniva a 14 euro e scontato a 7 euro che penso che sia il mio che è questo qua. È bellissimo. Indubbinate cosa c'è dentro. Ha un profumo straordinario. Quando l'ho vista allora io ho un amore per Lush perché fa le ballistiche le palle da bagno e le ha fatte anche Sabone guardate le mie palline hanno un odore sono a volte nella plastica infatti non lascio sono nella plastica ma siete già l'odore che hanno e sono praticamente una è lavanda e paciuli una è si chiama lieve e jasmine o cose del genere penso che sia più delicata e talcata e poi c'è l'anda che è rosa quindi è la rosa sono buonissime le scatolineate è roba che è bellissima penso che la utilizzerò per il tè poi non ho utilizzato tanto comunque le palline sono protette e hanno un profumo che le lascerei aperte sempre guardate che belle che sono se potessi sentire il profumo ve lo trasmetterei vi dirò anche di queste qua come sono e poi ovviamente ripeto terror la scatolina questo mi ha costato il 50% in meno 7 euro le mie palline che comunque conviene molto perché io da Lush sono molto fattiscenti sono molto belle però le pago quasi 5 euro l'una facendo i calcoli sono 15 euro qua le ho pagate 7 euro anche a prezzo pieno venivano 14 comunque poi ho preso abbiamo preso a prezzo intero l'altro Christmas Christmas kit veniva 19 euro e noi invece abbiamo pagato 9 euro e 50 che penso sia quello degli scrub ovviamente essendo che mia sorella ha diciamo pagato un po' di più che va la costa anche se abbiamo messo 10 euro a testa però io avevo le balls quindi va bene lo stesso avevo le palline che costavano un po' di più diciamo diciamo che lei aveva pagato molto meno quindi diciamo che quello che ci hanno omaggiato è stato il praticamente c'era l'offerta che se tu prendevi tre prodotti quello meno caro te lo mangiavano quindi in questa cosa ci hanno omaggiato il mio però ci siamo divisi i soldi comunque lei ha preso allora ha preso il kit Christmas kit che sono tre body scrub io ne ho uno solo dei tre perché sono una povera rincoglionina scherzo perché la sorella questa fragranza già l'aveva già in versione gigante e lei usa molto più gli scrub rispetto a me anche perché io di scrub ne ho ancora tanti c'è ancora quello di Natale della Lush e ne ho un altro a estate del mar morto che ho preso da bottega verde quindi comunque un po' di scrub anche lei per carità però visto che lei li usa molto più di meglio ho detto vabbè tu ne prendi due ne prendo uno va bene lo stesso almeno comunque lo provo ce l'ho e poi carino perché piccolino mi piacerà per quello e questo è pacciulli lavanda e vaniglia che lei se non sbaglio era il primo che aveva preso lei c'era perché sono proprio ciotolosa enorme quindi metto prenditi tu questa io mi prendo si è presa le altre ed è questo qua è lo scrubino è molto buono come schermetto che è molto forte quindi lo proverò poi lei invece ha preso il body lotion che è una crema per il corpo che costava invece 15 euro la pagata 4 euro e 50 quindi un buono sconto anche qua è passato scontato le mie ballistiche quindi abbiamo fatto praticamente metà per uno come se avessi tipo pagato diciamo queste campane in totale è venuto fuori 20 euro quindi abbiamo fatto 50 e 50 alla fine perché comunque diciamo che ci stava un po' mi sono un po' tirchia non scherzo però io mi sono presa solo uno scrub perché non potevamo dividere gli scrub perché più di quello non si poteva fare però va bene va bene così tantamente stavano vivendo prendermi le palline e così abbiamo avuto comunque delle cose scontate queste cazzo di campane madonna ogni volta queste campane come faccio i video devono suonare mi stanno annunciando che sono le 8 per quello comunque diciamo che abbiamo speso 10 e 10 quindi alla fine va bene perché comunque qualcuno doveva pagare gli scrub gli scrub venivano 9 e 50 e perché comunque era quello che dovevamo dividerci in teoria e poi c'era la crema mi sono preso la crema quindi quella che ha speso di meno in teoria perché il suo prodotto era quello che veniva di meno scontato 4 euro e 50 e il mio veniva di più quindi per far condicio però abbiamo fatto metà e metà e io ho preso una scrub solo perché comunque ho le bolse se mi trovo bene poi se le prenderà anche lei ha detto diciamo che quella che si è presa di più sono le bolse che comunque lo sconto era maggiore ma ci sta neanche tanto ne vado a vedere l'euro quindi e poi c'è un riempito di campioncini quindi prima che poi libera mia madre che mi rubera i campioncini ci avrebbe riempito la tipa ne abbiamo avuti tipo 6 o 7 adesso io ne ho 3 che sono questi qua sono uno shower oil e penso che sia un olio un olio per lavarsi devo provarlo delicata e jasmine che è una delle sia delle balline che ho delle balle delle bolse che ho e che ha anche lo scopo mia sorella e c'è scritto in Miami olio doccia c'è un altro olio doccia e poi c'è una body lotion che finirà mia madre che è paciuli lavanda e vaniglia io spero di non dargliela però sono sicura che me la ruberà invece mi ha la mannata nascondo non ci sono campioncini abbiamo messo in totale appunto 20 euro abbiamo messo diceva testa io ho messo in moneta perché ne ho solo 10 euro io ho messo rimanente meno male che non era di più e questo è quello che ho acquistato io le palle quando le proverò ve lo dirò quello che proverò diciamo più spesso è lo scrub perché lo provo a volte dopo la palestra perché sento che sudo molto la concezione di puzzare quindi mi faccio sempre lo scrub e poi mi passo mi passerò magari questo qua che ci sta alla fine scrub olio ci sta lo proverò io non uso molto la crema corpo cosa sbagliata le uso solo dopo la depilazione perché lì mi sento proprio che ho il corpo secco non le uso tantissimo perché non mi fanno impazzire sono più per i gel infatti non lo so non mi trovo benissimo anche dopo sole sono tutti in gel quelli che uso io se quelle proverò magari quando non faccio palestra perché fare il bagno dopo la palestra non mi sa di pulito lo faccio nell'intermezzo che magari voglio rilassarmi quando i miei non ci sono e proverò le palline che fantastica cosa io adoro le balls l'ultima che ho utilizzato è stata quella di Lush però questa è quella che voglio provare vi dirò poi in una recensione su tutti i prodotti vi farò magari un repilogo totale di quello che ho provato quando li proverò niente questo è quello che ho acquistato vi farò poi metterò una foto come copertina per vedere quello che ho acquistato magari state scontrini ah ho anche un buono di 20 euro a fronte di una spesa per i tuoi acquisti superiori a 100 euro se qualcuno vuole farmi vuole darmi 100 euro ben volentieri vi invito se volete ovviamente a dare un'occhiata adesso lo metto sotto in descrizione praticamente è una nuova marca che sto sponsorizzando che non mi paga momentaneamente ma in futuro spero di sì perché diventerò l'ambasciatrice spero e mi auguro ma non lo so fino a che punto per voi aiutatemi andate a vedere nel sito che io vi lascio sotto in descrizione con il mio codice amico che si chiama saratamico10 se non sbaglio potete avere 10% di sconto su tutti su tutti gli articoli che ci sono online dalle borse i zaini ed è una marca molto molto buona quindi di accessori quindi dai borselli zaini quindi date un'occhiata se vi va e poi magari più avanti metterò anche altre sponsorizzazioni se riuscirò se voi stessi sponsorizzati da me per qualsiasi cosa chiedono pure ho rifatto il metodo di sponsorizzazione magari poi ci farò un video nel senso che sponsorizzo le persone che comunque ne hanno bisogno tutto il resto e ci mettiamo d'accordo magari ovviamente su non chiedo non chiedo soldi se per questo che mi stiate chiedendo ma magari un tornaconto nel senso che io sponsorizzo una persona magari perché appunto adesso questo per diventare ambasciatrice però mi ho fatto ad esempio in altri casi io sponsorizzo una persona e magari quella persona mi fa o uno sconto o di solito magari mi sponsorizza a sua volta diciamo che comunque è una libera collaborazione chiamola così io invece io sponsorizzo i vesti rocce e sabon perché mi piace se volete pagarmi sabon o i vesti rocce più che altro non penso ma potete assumermi male non ne fa e niente io vi saluto dopo questo sono gli scontrini e ci vediamo un po' vedete di quali delle due marche conoscete penso più i vesti rocce ma sabon è fantastica provatela se andate in negozio chiedete dei campioncini o di provare le cose ve le fanno provare tranquillamente non so in quale città si trova ma a Torino notte come c'è delle gru da coin c'è problema c'è una ragazza sempre molto simpatica che mi fa provare tutto io ho scoperto sabon dalle creme che mi facevano provare a Natale mi sono innamorata io non amo le creme lo dico ma le creme che avevano loro per le mani erano fantastiche io saluto ci vediamo in un prossimo video